I padroni di casa vengono da tre risultati utili consecutivi e vogliono allungare la propria striscia positiva. Gli ospiti hanno cominciato il campionato con quattro sconfitte in altrettante partite e vogliono trovare i primi punti della propria stagione. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti a Salernitana Ternana, sesta giornata del campionato Under-17, girone C. Passiamo alle formazioni partendo da quella dei padroni di casa che rispetto all'ultimo weekend presentano una sola novità. Gasparro al posto di Venanzi in cabina di regia, confermati tutti gli altri dieci. Risponde la Ternana con tre volti nuovi rispetto a due settimane fa, lo scorso weekend infatti gli Umbri hanno riposato. Si tratta di Tagliolini, classe 2008, quindi sotto età al centro della difesa, Gatto da playmaker e Turella in avanti a farne le spese, Pesce, Sgro e De Santis. Cosentino, davanti a lui Scopigno, lo può puntare il numero 9, rientra, va al limite con un gran pallone da Ambrosio che sterza, scivola ancora Ambrosio! Calcia col sinistro, blocca Novelli. Pronto Pierdomenico sul punto di battuta, sei giocatori della Ternana in area di rigore, vedremo se il numero 7 andrà direttamente in porta o proverà un cross. Va Pierdomenico, cerca la porta, non la trova, palla fuori. Occhio ai blocchi preparati dalla Salernitana, ci sono Gasparro e Verza davanti a tutti, va a schiela in mezzo, Lombardi, palo pieno! E poi sulla ribattuta proprio Verza, è il più lesto di tutti a fare tap-in, 1-0 Salernitana con il gol del capitano. Palla in verticale per Lombardi, sta arrivando a supporto Cirigliano che si butta in area di rigore, sfera al limite da Cosentino, carica al destro, non riesce a tenerlo basso. Bisogno, accelera, palla al piede, grande gamba del numero 19, pallarimorchio per Cosentino! A botta sicura, c'entra un difensore della Ternana, Gatto pressato da due giocatori, se ne va il 4, vince un rimpallo, diventa buona per Sculli con l'esterno! Si divora l'1-1, sono praticamente scaduti i 4 di recupero, allontana la Ternana e l'arbitro dice che non c'è più tempo! Quarto risultato utile consecutivo per la Salernitana che bate 1-0 la Ternana grazie al gol di Verza!